Chiusa la parte sulla data protection, arriviamo all'altra parte che è quella sul public sector information, che poi ci aprirà la strada alla parte finale, invece al focus che ho predisposto per gli open data. Però più tecnicamente, più propriamente, si parla a livello di legislazione europea di public sector information, quindi con l'acronimo PSI, lo troverete spesso con questo acronimo. E c'è stata un'evoluzione negli ultimi vent'anni di ben quattro direttive, che sono le cosiddette direttive PSI. La prima del 2003, chiamata direttiva, vedete, la 98 del 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. L'obiettivo qua, il focus, era più che altro quello di favorire il riutilizzo delle informazioni, dei dati raccolti dagli enti pubblici, più che altro tra loro, e non tanto nell'ottica del riutilizzo da parte di chiunque, anche del mondo produttivo, delle aziende o dei cittadini. Ovvero, facendo un esempio banale, il comune di Roma, che raccoglie un certo dato, e il comune di Frosinone, che ha necessità di utilizzare quello stesso dato, dovrebbe essere nella condizione di poter farsi dare, diciamo, quello che ha già raccolto il comune di Roma, senza dover investire dei soldi e delle risorse per raccoglierlo nuovamente. Quindi questo è stato un po' il primo approccio, cioè cercare di fare economia e di scambiarsi il più possibile i dati tra pubblica e amministrazione. Successivo passo è stato quello del 2007 sui dati geospaziali, dati territoriali, con la creazione di questa infrastruttura per l'informazione territoriale della comunità europea, con l'acronimo molto molto efficace INSPIRE, che è l'acronimo dell'addizione inglese di questo nome. E poi nel 2013 una direttiva che ha aggiornato quella precedente, quella del 2003, perché ovviamente sono cambiate molto le cose. Cioè voi pensate che cos'era internet, che cos'erano le tecnologie digitali nel 2003, che c'erano ma erano tutte molto embrionali, non c'erano ancora le piattaforme social, non c'erano i smartphone, non c'erano gli dispositivi GPS, cioè era veramente un altro mondo. Nel 2013 erano cambiate già le cose, erano arrivate appunto la rivoluzione degli smartphone, erano arrivate le app per cellulare, erano arrivate le piattaforme social, tutte le principali c'erano già, e quindi internet era diventata da banda larga, e quindi tutti accedevano a tutto con una certa efficienza e velocità e via dicendo. Ma la vera rivoluzione è l'ultimo passo, quello del 2019, che è qua, scusate mi si è decentrato la slide ancora, a cui dedico una slide ad hoc. Viene chiamata anche direttiva open data questa, perché come vedete non parla più solo di riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico, ma addirittura mette prima, mette davanti, l'apertura dei dati, eccola qua. Quindi direttiva 100, scusate, 1024 del 2019, relativa all'apertura dei dati e riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico. Quindi non è più solo riutilizzo, ma è open est in senso pieno, ok? Quindi da parte di tutti, qua lo dice, la valorizzazione, questo viene dal sito dell'Agid, la valorizzazione del patrimonio formativo è una delle priorità che la Commissione si è data attraverso la Digital Single Market Strategy, arrivato a definire un quadro normativo volto a incoraggiare ed agevolare il riutilizzo dei dati prodotti dal settore pubblico, imponendo vincoli minimi dal punto di vista giuridico, tecnico e finanziario, che sono ovviamente le tre fonti di vincolo, no? Cioè, la questione giuridica, ad esempio, un vincolo è il diritto d'autore, il copyright, e vedremo nella parte finale come è stato risolto. Un vincolo tecnico sono, ad esempio, i protocolli e i formati di file. Mettere fuori un dato in un PDF scansionato a bassa risoluzione non è fare veramente open data, perché ce ne facciamo molto, ci vuole sempre un essere umano che sta lì e ritira giusti i dati. E finanziario, la questione dell'avvitare cortocircuiti di carattere estremamente finanziario e economico, ad esempio, nei primi anni del dibattito sull'open data, alcune pubbliche amministrazioni avevano opposto come barriera quella del danno erariale. Eh, ma se io metto fuori questi dati, io normalmente me li faccio pagare, se li metto fuori open, faccio un danno erariale. Adesso abbiamo risolto la questione perché l'Unione Europea dice chiaramente questi dati non è che è scelta tua libera di metterli fuori, alcuni li devi mettere fuori per forza. Addirittura, un'altra norma che qua non ho citato, però, che è il cosiddetto decreto trasparenza, che ha compiuto esattamente in questi giorni dieci anni, è il decreto legislativo 33 del 2013, c'è un elenco di dati a pubblicazione obbligatoria, che poi si trasformano in quella sezione trasparenza del vostro sito. No, la sezione trasparenza del sito della pubblica amministrazione è la sezione in cui la pubblica amministrazione mette fuori tutto ciò che è obbligato a mettere fuori. E quelli, hai voglia a dire che è una questione strategica di scelta? No, lì sei obbligato, lo dice la legge, se non li metti fuori c'è una sanzione, punto. Dopo vedremo appunto cosa si può fare per mettere fuori correttamente, dal punto di vista anche della licenza d'uso, questi dati. Ecco, il quadro normativo in materia di Public Sector Information italiano, quindi fino a qua abbiamo visto le direttive, invece è questo, è un po' contorto, perché vedete, noi avevamo un decreto legislativo del 2006, 36 del 2006, oltre a quello che vi ho già citato che è il decreto trasparenza. Questo non è stato cancellato e sostituito da un altro decreto, ma è stato rirubricato e aggiornato da un decreto del 2021, quindi attualmente il riferimento normativo è ancora questo, che sembra bizzarro perché questo del 2006 in realtà attua una direttiva del 2019, sembra una roba da ritorno al futuro, invece è così, perché è stato modificato da un decreto del 2021, che è questo. E adesso appunto il decreto si chiama attuazione della direttiva UE 2019-2024 relativa all'apertura dei dati e riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico. Vedremo dopo più nel dettaglio, però poi buona parte delle norme in materia di Open Data nella pubblica amministrazione si trovano però all'interno di un altro testo normativo, che è il caro nostro amico, che sicuramente conoscerete, Codice dell'amministrazione digitale, anche abbreviato CAD, che è anche lui un decreto del 2005, l'82 del 2005, ma anche lui ha aggiornato più e più volte l'ultimo intervento sostanzioso, è stato del giugno del 2022, quindi abbastanza recente, meno di un anno fa, e quindi è stato oggetto di tante stratificazioni normative. Vedremo che appunto ci sono alcune norme interessanti, andremo a vedere poi nella parte finale la definizione di dato aperto, di Open Data, come lo intende il nostro legislatore, però poi c'è l'articolo 50 che parla di disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, il 50TER che parla di una piattaforma nazionale dati, il 51 che parla di sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture della PA, e poi il 52 che vedremo nel dettaglio perché ho proprio una slide ad hoc, che è quello che parla di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, che crea il cosiddetto principio, viene chiamato Open by default, e ve lo spiego meglio dopo. Vabbè, qua c'è una sintesi delle novità portate dal decreto del 2021, che ha attuato la direttiva, non la facciamo, ve la lascio leggere con calma se volete. ecco, non è finita perché oltre alla direttiva, ai decreti attuativi, alle leggi vere e proprie, abbiamo le regole tecniche, perché gli Open Data ovviamente hanno una questione anche, cioè si portano dietro una questione anche in tecnico-informatica, e quindi ci sono anche, c'è un ulteriore strato di norme secondario, nazionale, ma comunque di regolamentare, quindi secondario, rispetto al decreto, che sono delle linee guida, recanti, regole tecniche per l'attuazione del decreto legislativo, questo ultimo che vi ho citato. E queste sono ancora in una fase di latenza, nel senso che il documento pare che sia definitivo e ormai destinato a non cambiare più, però non è ancora stato licenziato formalmente in gazzetta ufficiale. E questo è una cosa strana perché stiamo aspettando da ormai luglio dell'anno e dello scorso anno. Comunque, vedete, se cliccate su questo link, trovate il testo e lì è veramente molto dettagliato, c'è spiegato davvero tutto, cioè se vi viene un dubbio su come dovete fare Open Data, è scritto tutto lì. Cioè non c'è davvero bisogno della lezione di Aliprandi o di qualche altro, cioè leggete lì, seguite quello che si è scritto lì, è un documento che è stato anche scritto da, come dire, a vostri colleghi, cioè da un gruppo di lavoro fatto di persone che lavorano nella pubblica amministrazione, quindi utilizza anche un approccio, una terminologia che dovrebbe essere a voi comune, a voi conosciuta. C'è anche un più recente Data Governance Act, questo è un regolamento europeo, lo lascio per ultimo perché è già definitivo, però entrerà in vigore dal 24 settembre, quindi già approvato, ma c'è sempre quel periodo di latenza che si lascia tempo agli Stati membri di adeguarsi, di capire un po' come funziona. Anche questo, se volete approfondire, vi lascio qua la slide e il link per andare a leggere. Domande su questa parte qua? No, possiamo continuare. Procedo che arriviamo sulla parte, anche perché questa parte su Public Sector Information la riprendiamo dopo sull'Open Data.